A. Antonella Fiordelisi, la regina delle frecciatine sottili. La nostra ex geffina preferita ha dato una lezione di modestia ai suoi ex fidanzati. Preparatevi a scoprire cosa ha dichiarato e perché le parole di Antonella sono state come una doccia fredda per i suoi ex. Benvenuti su Reality Italiano, il tuo canale di notizie sui reality e sul gossip più intrigante. Antonella Fiordelisi, con il suo solito charm, è stata intervistata dai suoi fan sui social media. Una domanda audace è emersa. Ti fidanzeresti mai con uno che non sia un influencer o una celebrità? E cosa ha risposto la nostra Antonella? Metti un like al video ed iscriviti al canale per seguire da vicino questa storia. Un sorrisino beffardo sulle labbra e una risposta che ha scatenato l'ironia Antonella dichiara apertamente. Non mi sembra che io sia stata fidanzata con tutti questi personaggi pubblici. Eccola detto. Ora, chi sono questi ex di cui Antonella parla? Abbiamo Edoardo Donnamaria, proveniente dai corridoi di Mediaset. Francesco Chiofalo, noto per la sua avventura a Temptation Island, e Gianluca Benincasa, che potreste conoscere solo se frequentate gli ambienti milanesi. Ma Antonella non si ferma qui, con un elenco di flirt che include anche nomi come Amedeo Barbato e Gonzalo Higuain. Antonella non si ferma, e rincara la dose, spiegando cosa cerca veramente in un partner. Antonella ci ha rivelato che per lei non è importante la fama o la notorietà del partner, ma piuttosto la connessione vera e il complice nella vita. Un messaggio di umiltà o un sottile pizzico di sarcasmo? Cosa ne pensano i suoi ex di queste parole? Ma soprattutto vi sareste aspettate delle parole così taglienti da parte di Antonella? C'è un'inaspettata lezione di vita qui. Antonella Fiordelisi ricorda che l'amore va oltre le luci della ribalta. Le sue parole, pur con un tocco di sarcasmo, ci insegnano che la vera connessione è ciò che conta. Chi avrebbe mai pensato che Antonella potesse darci una lezione così profonda?